vai fare tutte e due le cose è un casino e allora chi è questo qui? il figlio di Ronaldinho vai ancora e mia si, devo capire un po' vai brazil, brazil, brazil che puntienza, che talento e adesso palla ferma ecco che adesso evoluzione, palla a me e vai brazil, ripresa e anche pallegio brazil dov'è? qua fai cao Ronaldinho la moglie di Ronaldinho e sta qui attenzione palleggio fantastico ed eccolo lì griglia griglia grazie grazie grazie